Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Apriamo con l'A1 dove in direzione Bologna, a causa di un incidente, si sono formati 3 chilometri di coda, adesso in diminuzione, tra Rezzo e Valdarno. Ancora in direzione Bologna, per traffico intenso, gode a tratti tra Calenzano e Barberino. Segnaliamo inoltre che l'area di servizio di Badia Alpino-Est è sprovvista di benzina e quella di Montepulciano-Est è sprovvista di GPL. Sulla A12 fare attenzione per personale su strada, per lavori, segnalato tra Rosignano Marittimo e Colle Salvetti in direzione Livorno. Sulla FIPILI fare attenzione per un veicolo in avaria all'uscita di San Mignato in direzione Firenze. Su raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allacciamento A1 di Firenze in Pruneta. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Buon viaggio!